Il nostro buon ego torna la voce, manca la voce Il nostro buon ego torna 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 la voce Go! 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 Iscriviti al canale WESTER! 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 WWWESTER! WESTER! IT IS Another! attimo a ricordare due cose, innanzitutto domani sera c'è un'altra bellissima serata alla Colonia di musica, dalle 9 una serata di musica dedicata soprattutto alla sensibilizzazione ambientale e ai temi dell'ambiente, quindi venite e partecipate perché ci sarà tanta buona musica e ci sarà insomma anche una buona motivazione. E in più, soprattutto volevo ricordare che adesso a mezzanotte c'è l'accensione delle luci del barco, quindi non perdetela perché c'è un grandissimo spettacolo e c'è anche un piccolo concertino in questo momento lassù, poi finiamo e iniziamo lassù, quindi se volete potete andare, fare due passi e andare a vedere il barco illuminato di notte, intanto vi ringraziamo tutti e un bel inchino per voi. Due, tre. Grazie.